Le api risentono in modo evidente dei cambiamenti climatici, li hanno affrontati in passato ma adesso devono misurarsi anche con nuovi fattori di rischio per la loro sopravvivenza introdotti dall'uomo. L'ape da miele, così come tutte le altre api meglio conosciute come api selvatiche o in generale insetti impollinatori, hanno affrontato diverse crisi climatiche nel corso della loro lunghissima storia perché esistono sulla terra da ancora prima dei dinosauri. Però la crisi che stanno affrontando in questo momento va di pari passo con altri fattori di rischio che sono stati introdotti invece nel mondo dall'uomo. Inquinamento, riscaldamento atmosferico, cambiamenti d'uso del suolo e pesticidi, tutto questo insieme comporta un maggiore rischio per le api. In questo territorio si sono avuti anche tanti danni alle colture a causa dei nubi fragili violenti, degli sbalzi di temperature, per esempio sotto Natale abbiamo avuto un gran caldo, poi subito dopo invece un gran freddo. Tutto questo che cosa comporta? È un danno enorme per l'apicoltura perché vi spiego l'anno scorso abbiamo avuto famiglie che si sono sviluppate nel periodo invernale, quindi arrivando più o meno a febbraio, marzo a dimensioni da produzione, cioè su 6-7 telai. Successivamente abbiamo avuto quelle gelate verso aprile più o meno e il miele che avevano prodotto, che stavano quasi per andare a smelare, gli è servito a loro per poter andare avanti per superare questa avversità e di conseguenza non abbiamo quasi prodotto più niente l'anno scorso. All'inizio, quando ho iniziato io per l'apicoltura, il miele si produciva. In questi ultimi anni invece abbiamo avuto un calo considerevole delle produzioni. La seccità prolungata nei periodi primaverili e estivi comporta anche una minore produzione di miele che da quasi più, tre anni a questa parte abbiamo avuto un calo più del 50% delle produzioni. Ecco, adesso io e Vicky ci vestiremo per avvicinarci proprio alle api e aprire una delle arnie. Allora, vedi che se infili il braccio dentro la maschera c'è un elastico che se vuoi puoi tirarlo sotto il mento, altrimenti lo lasci su. E procediamo a metterci l'attrezzatura adatta per poter fare questa operazione. Questo è un apiario olistico unico nel suo genere perché è a pianta circolare, quindi la struttura è stata ispirata dalla forma del trullo pugliese e serve per fare attività di benessere con le api. Queste sono famiglie piuttosto piccole ma che stanno iniziando a covare da qualche giorno. Si può dire che la regina ha ripreso lentamente la sua attività. Eccola qui, l'abbiamo trovata subito. Questo insetto con la corona bianca, all'addome più lungo, è meno striato, è più rossa. Quindi osserviamo i pelaini, il comportamento delle api, la presenza di scorte, gli eventuali sintomi di malattie per poter agire in loro aiuto. L'abitudine di spostare alveari, arnie è recente o gli apicoltori l'avevano sempre fatto? In passato i professionisti l'hanno sempre fatto in nomadismo, ora si vede anche gli apicoltori per hobby hanno iniziato anche a fare gli spostamenti in zone favorevoli alla produzione. Una sorta di transumanza delle api state facendo? La possiamo chiamare così, la transumanza delle api, effettivamente è quello. Noi per nostra scelta non ci spostiamo più di 40 minuti di macchina, massimo un'ora. Facciamo degli spostamenti brevi proprio per ridurre le emissioni dovute agli spostamenti e anche perché abbiamo una piccola quantità di api, non siamo un'azienda grandissima. Il nostro business si basa soprattutto sulle esperienze con le api.